Un potente mixer audio è il fulcro di uno studio e degli spettacoli dal vivo. I seguenti mixer audio ti permetteranno di registrare e far suonare la tua band in modo fantastico. Il tutto in dimensioni abbastanza compatte nonché facili da integrare in un home studio. Esistono così tanti mixer audio sul mercato che scegliere quello giusto può essere difficile, soprattutto se non sai cosa cercare. Fortunatamente troverai tutte le risposte che stai cercando nel nostro video. Il nostro team di esperti ha testato diverse dozzine di mixer audio per creare questa top 3 per te. Il miglior mixer audio analogico tra i più economici, il mixer audio col miglior rapporto qualità-prezzo, il nostro mixer audio preferito. Troverai tutte le informazioni sul prodotto nella descrizione sottostante. La nostra prima console è una Behringer, un marchio noto per le sue attrezzature di alta qualità e i prezzi bassi. Il Behringer Xenix X1204 USB segue la tradizione. Ha tutti gli elementi essenziali di un buon mixer, senza tanti fronzoli, e il rapporto qualità-prezzo è fenomenale. Prima di tutto, il mixer audio Xenix X1204 è dotato di 4 ingressi microfonici XLR con alimentazione Phantom da 48V, che puoi anche collegare i tuoi strumenti tramite un ingresso jack da 6,3 mm. Sono inoltre presenti due ingressi ausiliari e due ingressi stereo. I canali del microfono sono dotati di un compressore, che non è eccezionale ma fa il suo lavoro. I vari canali dispongono di un filtro low-cut da 75 Hz per ridurre i bassi. Inoltre, tutti i canali microfono e stereo dispongono di un equalizzatore a tre bande per regolazioni accurate della frequenza. Questo mixer audio può essere utilizzato per far suonare una piccola band, ma puoi anche usarlo come scheda audio per la registrazione. Devi solo collegare il mixer al tuo computer tramite un cavo USB. Non male, vero? Xenix X1204 offre anche effetti incorporati. Uscito dalla confezione, il mixer audio ha 16 preset, che puoi modificare a tuo piacimento. Dal punto di vista della produzione è tutto perfetto. Le materie prime sono solide, le manopole resistono bene alle rotazioni, in una parola è fantastico. L'output audio principale è un'uscita stereo XLR, che si trova sul retro del mixer. Dispone anche di un'uscita ausiliaria con un jack stereo da 7,3 mm e un'uscita control room. Come puoi vedere, lo Xenix 1204 USB è un pezzo di vanto della Behringer. È un mixer audio con poche semplici impostazioni. Presenta l'essenziale, ma funziona molto bene. Il suono in uscita è pulito e non deluderà. Questa è una buona soluzione se hai un budget limitato, ma vuoi comunque investire in un tavolo adeguato, ed è per questo che lo consigliamo. Passiamo ora a un mixer che si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo. Alto offre un mixer di alta qualità e un prezzo ragionevole. Live 1604 offre tantissime opzioni. Diamo uno sguardo più da vicino. Con Live 1604 puoi utilizzare fino a 10 ingressi XLR microfonici con preamplificazione DNA per prestazioni audio migliorate. Ciascuna di queste unità è dotata di alimentazione Phantom. Puoi anche collegare i tuoi strumenti tramite i jack da 6,3 mm situati sotto ogni ingresso XLR, in mono e stereo. Oltre a tutto questo hai 4 ingressi ausiliari extra e altri 4 ingressi stereo. I canali da 1 a 6 hanno un compressore dinamico. Fermiamoci qui per un secondo. Offrono un'ottima qualità del suono, una delle migliori risorse di questo mixer audio per il suo prezzo. Ogni canale è dotato di un equalizzatore a tre bande e di un fader da 60 mm con il tasto Mute, PFL e LED di picco per regolare il volume senza mandare in distorsione il suono. L'Alto Live 1604 dispone anche di 100 effetti DSP dell'Alesis di alta qualità. Alto ha anche deciso di aggiungere un'uscita USB sul pannello frontale, che si rivela molto utile. Questa porta USB è solo per l'alimentazione, quindi puoi collegare il tuo telefono o una lampada, ottimo anche per i luoghi più bui. L'uscita Master è dotata di un collegamento XLR bilanciato. Ancora una volta per il prezzo, abbiamo apprezzato molto il fatto che Alto abbia deciso di posizionare quattro uscite stereo ausiliarie sul retro del mixer. È disposto anche di un'uscita per cuffie con volume indipendente sempre utile. Il trasformatore e il cavo di alimentazione sono inclusi nel set. È un mixer audio solido ed ha la buona produzione. Alto ha raggiunto i suoi obiettivi con il Live 1604, ovvero offrire un mixer audio completo che ti permetta di suonare o registrare in ottime condizioni. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente. Questo mixer è pieno di utili caratteristiche ed è per questo che lo consigliamo. Aumentiamo un po' la sticella del prezzo insieme a quella della qualità e presentiamo il nostro mixer audio preferito. PreSonus Studio Live AR16 USB non è l'unico miglior mixer audio presente sul mercato, ma ha una bella gamma di funzionalità e può offrirti tutto ciò di cui hai bisogno senza spendere una cifra esagerata. Studio Live AR16 dispone di 12 ingressi microfonici XLR con preamplificatori di classe A per una qualità del suono ottimale. Puoi anche collegare i tuoi strumenti a questi stessi ingressi tramite jack da 6,3 mm. Inoltre dispone anche di 5 ingressi stereo e 2 ausiliari. E, piccolo dettaglio ma inaspettatamente comodo, troverai un ingresso per mini jack nella parte anteriore per collegare il tuo telefono o computer tramite Bluetooth. È inoltre possibile collegare una sorgente audio tramite scheda SD o USB, la parte migliore e che puoi riprodurre contemporaneamente suoni da sorgenti diverse. Il mixer audio è dotato di effetti incorporati, puoi usare i 16 preset originali ma puoi anche cambiarli a piacimento. La cosa fantastica di Studio Live è che ti dà la possibilità di registrare più tracce su Mac e PC. Il software di registrazione Studio One Artist e Capture sono inclusi nell'acquisto. Questa volta le uscite sono sul fronte, tra cui l'uscita Master XLR bilanciata, un'uscita per cuffie stereo e un'uscita per i ritorni. La robusta custodia in metallo fa il suo lavoro e, non temere, la durata di questo mixer audio è garantita. Questo mixer ha tutto ciò di cui hai bisogno in un home studio. In effetti, il fatto che Studio Live AR16 USB consenta la registrazione multitraccia è un grande vantaggio e non troverai niente di meglio in questa fascia di prezzo. Ci piace! Rivediamo le caratteristiche principali e le qualità dei mixer audio nella nostra top 3. La Behringer è tornata con il suo Xenix 1204 USB, un piccolo mixer audio perfetto per i budget più piccoli. Se hai bisogno solo di un paio di canali, questo è perfetto per te. Alto Live ci ha sorpresi in maniera positiva. Il Live 1604 è un buon mixer audio con molte caratteristiche e la possibilità di collegamenti simultanei. E il prezzo è ottimo! Il nostro preferito, il PreSonus Live Studio R16 USB, offre tutto ciò che ti aspetteresti da un buon mixer audio. Si adatta perfettamente a un palco che in un home studio. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per restare aggiornato sulle uscite dei nuovi video. Non esitare a mettere mi piace, condividere il video e interagire qui sotto nei commenti. Ci auguriamo che questo video ti abbia chiarito un po' le idee. Tutti i link e la scheda del prodotto sono disponibili in descrizione. Ci vediamo presto per una nuova top 3. Un saluto da Shopedia, ciao!